Buongiorno dottor Martinelli di Acomea, che cosa pensa Acomea SGR della quotazione dei fondi? Pensiamo che sia un'ottima opportunità per il mercato, pensiamo che possa essere un'ottima opportunità per noi, per la nostra SGR. Sicuramente i pareri sono un po' contrastanti, però come al solito quando sul mercato arrivano delle novità la maggior parte della gente invece che cercare di abbracciarle, cercare di capirle, cercare di portarle avanti, cercare di progredire, è più preoccupata del mantenimento dello status quo, per cui sicuramente la quotazione di fondi in borsa per questo tipo di persone, per questo tipo di pensiero, sicuramente potrebbe rappresentare e rappresenta una minaccia. A mio avviso non è assolutamente vero, la dimostrazione l'abbiamo avuta anche anni e anni fa con gli anni.